Siamo col presidente del team missili di Malegno, allora finalmente siamo riusciti a partire, prima l'acqua vi ha bloccato e invece domenica una bella giornata di sole e è andato tutto bene. È andato benissimo, grande presenza di pubblico anche sulla pista e soprattutto di concorrenti, venuti un po' da tutta parte d'Italia. Avete avuto davvero delle sorprese perché non vi aspettavate, forse avere alcuni piloti addirittura da Roma sono venuti. Esatto, è un nostro amico che ha voluto venire a partecipare a questo percorso che è molto impegnativo e piace. Ecco il campionato è partito finalmente, cosa vi aspettate da questo campionato come team missili? Allora dal nostro gruppo speriamo di migliorare le performance dell'anno scorso, visto che non è che abbiamo vinto stante categorie. Quest'anno si è aggregato dei nuovi piloti e speriamo di migliorare e di vincere in qualche categoria. Siete andati bene nella categoria dei brussi junior anche perché avevate tutti voi i piloti in gara? Esatto, perché il nostro gruppo vuole soprattutto spingere i giovani a correre. È per quello che cerchiamo di attirare la gente, i bambini a correre perché è uno sport semplice e facile da praticare. Grazie. 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 Grazie.